Ceccarelli e De Roberti sono gli avamposti del territorio latino in regione, quindi anche questa è una vittoria anche voi. Sì, soprattutto l'ultimo finanziamento di 760 mila euro per gli allacciamenti è dovuto proprio ad un emendamento che abbiamo proposto al Consiglio regionale. Comunque si tratta di un impegno importante, 2 milioni e mezzo di euro complessivamente, compresa la progettazione che arriva dalla regione per una risposta ad un territorio che attraverso l'acqua di Montedoglio, che ora diventa utilizzabile, può veramente operare per un'agricoltura di qualità che è legata al farrovivaismo, che è legata insomma a produzioni per cui c'è questa parte della Vardichiana evocata e che in questo modo può sviluppare a pieno titolo e nella pienezza delle possibilità appunto queste coltivazioni che sono agricolture di pregio e di qualità. Sappiamo benissimo che per gli agricoltori l'acqua vale più dell'oro. Sì, vale più dell'oro e soprattutto la regione questo deve fare. Rispetto al cambiamento climatico abbiamo assistito a estati dove c'era troppa poca acqua, estati dove ce n'era troppa. Noi dobbiamo creare quelle infrastrutture che danno la continuità e la garanzia all'agricoltore, che almeno da questo punto di vista le sue colture sono in serbo. Certo, anche gli investimenti che vengono fatti sull'innovazione tecnologica che gli agricoltori stanno facendo, aiuteranno, si parla di serre, si parla di coperture, insomma dobbiamo rendere questo territorio autonomo anche dal punto di vista dell'influenza del clima perché dobbiamo mettere in campo tutto, però la regione intanto inizia dalle infrastrutture.